Venerdì finalmente riapriremo le porte a Palazzo Mainenti, diventerà la sede amministrativa dell'Enteparco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questo splendido palazzo è stato chiuso nel 2005 circa, sono stati effettuati importanti interventi di restauro. Allora insieme all'Enteparco ha lavorato la soprintendenza ai beni paesaggisti, architettonici e paesaggistici, l'architetto Domenico Palladino. Allora vogliamo un pochino spiegare che tipo di interventi, soltanto da guardare questa stanza riusciamo a capire l'importanza di Palazzo Mainenti. Allora in effetti l'intervento è iniziato con un accordo di programma tra l'Enteparco e la soprintendenza, volto proprio al restauro e la valorizzazione di questo palazzo. In effetti poi la prima consegna è avvenuta nel maggio del 2008, inizialmente sono fatte tutti gli interventi di tipo strutturale, in particolare alla zona del sottotetto e poi si è intervenuti sulle tele da soffitto, perché questo palazzo, specialmente al secondo piano, ha un apparato decorativo di Piazza Nobile, dove c'era ovviamente l'apparato decorativo più importante, come si può vedere dalle immagini, dalle riprese, ci sono delle tele da soffitto decorate molto importanti, anche degli infissi interni ed esterni, anche essi molto importanti. Ecco, da notare anche dinanzi a noi questo particolare. Questo particolare, praticamente, è una fascia che abbiamo ritrovato a seguito del rifacimento del solaio, una fascia che era una decorazione al piano sottostante, quindi al primo piano, che era stata occultata dalla tela, quindi nel momento in cui abbiamo lavorato poi per il rifacimento del solaio, questa fascia è stata rimessa in luce, a vista tramite questa... Abbiamo anche voluto mostrare, diciamo, tutto il sistema, diciamo, la tecnologia dell'epoca storica di aggancio delle tele alle travi, al graticciato di soffitto. E quindi, che periodo parliamo? A quando risale questo palazzo? Noi parliamo di un periodo che va dalla fine del Settecento agli inizi dell'Ottocento. Diciamo che un nucleo iniziale del palazzo appartiene grossomodo alla seconda metà del Settecento, fine Settecento. Poi c'è stato l'ampliamento agli inizi dell'Ottocento, ad opera di Eugenio Menenti, che era, diciamo, la figura di maggior spicco della famiglia Menenti, essendo stato anche il primo sindaco di Vallo. E quindi si ha questo ampliamento e poi, subito dopo, anche tutto l'apparato, la realizzazione di tutto l'apparato decorativo, con la messa in opera delle tele, i dipinti murali che abbiamo visto e tutto il resto, insomma.